Cari normoragionanti, abbiamo appena avuto il piacere di leggere le ultime dichiarazioni di Bergoglio che racconta di essere stato usato, poverino, nel conclave del 2005, ma lui in realtà teneva per Ratzinger, sì sì, perché era il suo candidato, sicuramente, sicuramente. Allora, una delle gaffe più clamorose di questa vicenda grottesca, perché poi nonostante sia qualcosa di una gravità millenaria, ha anche dei tratti così ridicoli, appunto, grotteschi. E una delle gaffe più clamorose riguarda la confessione del cardinale Godfrey Dunnels, primata del Belgio, che in tv e nella sua autobiografia autorizzata nel 2015, ammise candidamente che il gruppo di cardinali supermodernisti di cui faceva parte, che si definivano mafia di Sangallo, aveva come candidato proprio il cardinale Bergoglio. Leggiamo dalla biografia. È un gesuita con fratello di Martini e cardinale arcivesco di Buenos Aires, si chiama Jorge Mario Bergoglio. L'atteggiamento di Bergoglio si guadagna la fiducia di molti dei partecipanti al gruppo di Sangallo, compreso Dunnels. Tutte queste cose Dunnels le ha sottoscritte, le ha autorizzate. Anche se i cardinali del gruppo di Sangallo, presenti a Roma, inviano a Ivo Führer, che era il vescovo di Sangallo, una cartolina con il messaggio, siamo qui insieme in spirito di pace, fu il cardinale Ratzinger a essere scelto dal conclave come successore quasi ovvio del papa polacco, anche se durante il pre-conclave il cardinale gesuita Bergoglio era un'alternativa realistica. Quindi, come leggete, questa ammissione rivela senza incertezze come da tempo esistesse un partito interno alla Chiesa, avversario di Papa Ratzinger, e come il suo candidato fosse proprio il cardinale Bergoglio. Quindi, nessuna manipolazione, nessuna manovra, non era il povero Bergoglio che è stato usato, no, Dunnels dice che molti sangallisti avevano fiducia in lui e quindi praticamente Bergoglio era il papabile per i sangallisti. Ora, nel 2016, Monsignor Genswain definì questo gruppo nel famoso discorso del Ministero Allargato. Vi leggo. Benedetto XVI fu eletto dopo solo quattro scrutini a seguito di una drammatica lotta, drammatica lotta tra il cosiddetto Partito del Sale della Terra, intorno ai cardinali Lopez, Truiglio, Ruini, Errans, Rocco Varela e Medina, e il cosiddetto gruppo di Sangallo, intorno ai cardinali Dunnels, Martini, Silvestrini e Marfio Conor. Gruppo che di recente, lo stesso cardinal Dunnels di Bruxelles, in modo divertito, ha definito come una specie di mafia club. Ora, perché dovrebbe essere stata una drammatica lotta? Scusate, ma nella Chiesa c'è un conclave, ci sono cardinali, tutti i successori degli apostoli, sì, ci potranno essere un po' delle correnti, ma perché dovrebbe essere una drammatica lotta? Se sono tutti cattolici, se sono tutti successori degli apostoli, veri cardinali, perché dovrebbe essere una drammatica lotta? Ce lo spiega qualche riga dopo Monsignor Genswein. L'elezione era certamente l'esito anche di uno scontro, la cui chiave quasi aveva fornito lo stesso Ratzinger da cardinale De Cano nella storica omelia del 18 aprile 2005 in San Pietro. E precisamente lì dove, a una dittatura del relativismo, che non riconosce nulla come definitivo, e che lascia come ultima misura solo il proprio Dio e le sue voglie, aveva contrapposto un'altra misura, il figlio di Dio e vero uomo, come la misura del vero umanesimo. Ora, a meno di non considerare che il partito di Ratzinger fosse quello della dittatura del relativismo, dobbiamo ritenere che proprio la mafia di San Gallo fosse l'alfiere della dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo, no? Quindi, a un anno dopo l'ammissione esplicita del cardinale Dunnels, che nel suo libro individuava pubblicamente Bergoglio come campione della mafia di San Gallo, Genswein cita le parole di Papa Benedetto che definivano il partito di Bergoglio come quello della dittatura del relativismo. Ora, come poteva Papa Benedetto accompagnare il nuovo stile come Papa di transizione se Bergoglio stesso era il suo avversario ed era il campione del partito della dittatura del relativismo? Ora, varie fonti riferiscono che fu il cardinale Martini, visto che non poteva candidarsi lui stesso per via della morbo di Parkinson, a decidere poi di far confluire i voti della mafia, compreso Bergoglio, su Ratzinger. Spiega Marcello Veneziani in un articolo di un paio di anni fa. In realtà Martini non stimava Bergoglio e benché gesuita come lui non lo considerava affatto nel suo solco. A ulteriore conferma è passata inosservata la testimonianza resa da Andrea Riccardi sul Corriere della Sera. Alla vigilia del conclave che portò alla elezione di Ratzinger nel 2005, racconta Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio, con Martini parlammo di nomi e io accennai con un certo entusiasmo al nome di Bergoglio, virgolette, gli risponde Martini. Andrea, allora è molto cambiato da come lo conosco. Chiuso il discorso con freddezza Martini. Martini partecipava all'establishment della compagnia, che non aveva un buon giudizio dell'ex provinciale argentino Bergoglio. Ratzinger non era nelle sue corde, ma alla fine tra colleghi professori, anche se non si è d'accordo, si riconosce il valore dell'altro, un valore che non era affatto riconosciuto a Bergoglio, considerato tutt'altro che progressista. Ora, Bergoglio, che non era visto bene da Martini, sarebbe stato troppo diverso a Giovanni Paolo II per attuare i piani della mafia di Sangallo, sarebbe stato uno shock troppo forte. Ma Ratzinger, questa è una riflessione che ho fatto anche sull'input di una lettrice che si chiama Federica, che ringrazio, Ratzinger era meno temibile da Papa che non da Cardinale della Fede, perché come guardiano della Fede era già consolidato da decenni, era una potenza, ma come Papa, non avendo il carisma comunicativo di Giovanni Paolo II, sarebbe stato facile mobbizzarlo a livello mediatico, come poi puntualmente avvene. Hanno eletto Papa Benedetto, lo hanno massacrato mediaticamente, lo hanno fatto passare per il Papa Arcigno, l'Arcigno teologo tedesco, inflessibile, il Rottweiler di Dio, il Panzer Cardinal, eccetera, eccetera, così poi, costretto a dimettersi in un modo del tutto particolare, Benedetto XVI, arriva a Bergoglio, ah, finalmente la ventata del riformatore, il super Papa Francesco, eccetera, eccetera. E infatti, così è andata e all'inizio ha detto loro bene. C'è il dettaglio che Papa Benedetto non aveva abdicato, ma ha fatto come Gesù, si è offerto la sua detronizzazione, facendosi porre in sede impedita, come sapete, dalla convocazione di un conclave abusivo che ha automaticamente scismato e antipapato Bergoglio. I sangallisti, anche se sapevano che Benedetto era in sede impedita fin dall'elezione di Bergoglio, se la sono rischiata. Tanto chi se ne accorge? Ma il piano è fallito, tutto è venuto alla luce e adesso è un declino continuo. Bergoglio continua a inanellare passi falsi uno dietro l'altro, più si agita e più sprofonda nelle sabbie mobili. Bene, cari amici, adesso noi ci vediamo fra qualche giorno il 5 ad Agrigento, il 6 a Mazzarino, con Don Minutella e con il professor Diego Fusaro, il 7 a Palermo per una conferenza di secondo livello, poi ancora Gaeta, Latina, Matera, eccetera. prenotatevi per tempo perché i posti rimasti non sono moltissimi. Un caro saluto a tutti.